Allora, il discorso degli insiemi in R3 o in dimensioni superiori lo facciamo venerdì. Oggi vogliamo sviluppare un esempio dettagliato di massimo-minimo, perché dobbiamo ancora dire una cosa, il massimo-minimo sull'insieme di R3. Allora, prendiamo, stavolta prendiamo un insieme tranquillo, per esempio prendiamo x quadro più y quadro, meno 4, meno 4 di 0, questo è il cerchio di raggio 2, il cerchio di origine, e prendiamo f di x y uguale a y più 2x. Questo è un problema semplice, si corrisolve in 50 modi diversi. Però, noi andiamo a vedere, prima dal discorso con le curve di livello, le curve di livello sono semplicemente i gradi indietro costanti, l'ortogonale è una costante, sono lette, è un vettore costante però queste rette non sono le stesse, cioè se io vado a scrivere y più 2x uguale c meno y uguale c meno 2x, quindi abbiamo tante rette parallele di coefficiente angolare o almeno 1x. Ok? Allora, disegniamo in azzurro la puntiera di t Ma come vedete tutte queste rette prima non intersecano t poi c'è la prima retta che è tangente alla puntiera di t poi c'è l'ultima retta tangente alla puntiera diciamo entra nell'insieme t e poi dall'altra parte esce dall'insieme t Allora, è chiaro che qui c'è il minimo e qui c'è il massimo questo per il discorso l'abbiamo fatto qui come vedete, l'ultima curva di livello lascia t tutto dalla stessa parte la prima lascia t tutta dalla stessa parte però dalla parte apposta quindi questo è un punto di minimo e questo è un punto di minimo punti minimo ma straordinario non ci stanno non ci stanno perché il gradiente di F è un punto di minimo non sa nulla Allora, come trovare i punti sulla puntiera? Allora ci sono vari modi primo modo allora la funzione è y uguale più 2x ma la mia puntiera io la posso scrivere come y quadro uguale 4 meno quindi quindi questa è l'edizione x y tali che è uguale a 0 porto 4 meno x quadro porto 4x quadro dall'altra parte meno 4x quadro dall'altra parte ok adesso quindi posso scrivere che y è uguale a più o meno la radice di 4 meno x quadro dove la x è compresa tra meno 2 e 2 cioè la mia frontiera la sto scrivendo come due pezzi di grafici di posizione quello di su quello di su allora f di x y per esempio sul pezzo di sopra avremo y uguale più questa radice quindi devo fare f di x radice di 4 meno x quadro e quindi qua mi viene radice di 4 meno x quadro più 2x e questo lo devo studiare per x compreso tra meno 2 e 2 se invece sul pezzo di sotto diciamo diciamo dt1 è uguale insieme delle x y radice y uguale alla radice 4 meno x quadro e dt2 dt2 uguale y uguale meno radice 4 quindi su dt1 devo fare questo su dt2 devo fare f di x meno la radice di 4 meno x quadro che viene meno la radice di 4 meno x quadro più 2x e anche in questo caso lo devo studiare per x compreso per la meno 1 andiamo a fare diciamo questa chiamiamo g1 di x è una funzione di una variante questa chiamiamo g1 di x adesso io sto praticamente studiando la mia funzione muovendomi soltanto la frontiera è chiaro è chiaro che dov'è la g1 c'è il massimo e io troverò la x la coordinata x del massimo quindi su dt1 che devo fare? più g1 primo di x è uguale a 1 su 2 radice di 4 meno 4 per meno 2x più 2 lo ugualiamo a 0 quindi troviamo x uguale 2 volte la radice di 4 meno x quadro quindi troviamo quadrando x quadro uguale 4 per 4 meno 4 quindi troviamo 5x quadro uguale 16 quindi troviamo x uguale più o meno 4 sulla radice di 5 vediamo un po' se ho detto bene allora sì la derivata mi sembra di averla fatta per bene ho semplificato ho quadrato sì l'unica cosa che voglio il meno è che questa x è la radice quindi deve essere sicuramente positiva ok x uguale a una radice altrimenti quindi deve essere forse così quindi ottengo ovviamente se vado a considerare le coordinate della y y è uguale alla radice di 4 meno 16 quinti che è uguale a la radice di 4 quinti quindi viene il contrario viene 2 sulla radice di 5 c'è qualcosa che non va perché no no è giusto è giusto perché la x che deve essere uguale a 2 y quindi abbiamo trovato che le coordinate di questo punto e poi se studiamo per bene la situazione con la g1 vediamo che il punto di massimo dovrà essere 4 sulla radice di 5 2 andiamo a fare a studiare la funzione g2 o in verità la funzione g1 in quel punto è l'unico punto stazionario interno tra meno 2 e 2 e là c'è il massimo il minimo dove ce l'ha ce l'ha qua e qua però questi punti non sono di massimo minimo quindi andrebbe poi studiato che questi punti non sono di massimo minimo per la funzione f sulla frontiera di t vengono dal fatto che abbiamo artificialmente spaccato la frontiera in due pezzi andiamo a fare il discorso su g2 che quando riguarda g2 g2 primo x è uguale a meno 1 su 2 radice 4 meno x 4 per meno che diventa più 2x più 2 uguale a 0 quindi mi viene stavolta x uguale a meno 2 sulla radice di 4 meno x quadro quindi quadrando trovo la stessa equazione di prima x quadro uguale 16 meno 4 x quadro e quindi trovo x uguale stavolta più o meno 4 sulla radice di 5 però stavolta devo prendere quello col meno per quale motivo perché qua x era negativo e quindi trovo quindi questo punto di minimo a ordinare andando a sfruttare come prima troviamo meno 4 sulla radice di 5 meno 2 sulla radice di 5 e anche qui la mia funzione quando la vado a valutare in allora io stavo a valutare la funzione su questo tratto qui qua c'è un minimo qua se vedete ci sono due massimi due massimi locali che però sono massimi locali solo se togliamo un pezzo di sopra della frontiera e che però non sono massimi locali sulla frontiera e poi comunque sono diverse perché la funzione qua ha un valore e qua c'è un altro il massimo invece è assoluto non c'è problema perché comunque quei punti questi due punti qua sono due punti in Italia gli altri due punti stazionali che ho trovato sono quattro punti adesso se valutiamo la funzione se io vado a vedere la funzione qua quanto vale vale 8 sulla radice di 5 qua vale meno 8 sulla radice di 5 nel punto di coordinata di 2,0 vale 2 ma 8 sulla radice di 5 è più di 2 ok e quindi se c'è qualcosa che non vale 4 sull'anno y più 2 x y più 2 x però la radice di 5 è maggiore di 2 quindi la mia funzione questo questo punto qua ha coordinate 2 0 e la mia funzione ah scusate vale non 8 sulla radice di 5 10 sulla radice di 5 perché y più 2 x e adesso si funziona perché io vediamo che 8 sulla radice di 5 è la minore di 4 quello che fa la funzione è meno 4 perché è 2x che fa 4 ma invece 10 sulla radice di 5 radice di 5 è minore di 2.5 quindi 10 sulla radice di 5 quindi questo lo troviamo più 1 questo lo troviamo più 3 f di più 1 è uguale a 10 sulla radice di 5 che è il massimo f di più 2 è uguale a meno 10 sulla radice di 5 è il minimo quando vado a prendere la funzione di questi due punti vedo che qua vale 4 che è meno di questo qua vale meno 4 che è maggiore di questo quindi il massimo meno assoluto sono stati trovati però questo metodo non è che mi piaccia tanto non mi piace tanto perché io devo comunque scrivere per forza la frontiera come grafico di funzioni alle funzioni che mi vengono sono un po' brutte poi ci sta questo fatto dei punti che vengono aggiunti artificialmente andiamo a fare un'altra possibilità un'altra possibilità è quella dobbiamo fare altri due metri questo è il secondo poi ne facciamo il terzo il risultato lasciamo perché il risultato deve essere lo stesso la seconda possibilità è quella di scrivere la mia frontiera ricordatevi che io avevo la frontiera di un quadro più di un quadro uguale 4 come sostegno di una quindi parametrizzare questa è facile da parametrizzare perché è una circonferenza allora io cosa faccio scrivo y uguale 2 coseno di t 2 seno di t e x uguale e t lo faccio tranquillamente variamo tra 0 e 2 in realtà anche in questo punto io ho aggiunto un punto artificiale che sarebbe t uguale a 0 uguale a 2 che mi dà lo stesso sarebbero diciamo quelle due possibilità che però mi danno lo stesso perché la lupia tuttavia in realtà noi capiamo benissimo questa parametrizzazione il punto che aggiunge stendo la curva chiusa lo posso diciamo mettere dove mi pare quindi in realtà quel punto non è da considerare poi ci vogliamo valutare la funzione per diciamo stare tranquilli ma non è il punto che sarà né di massimo né di minimo perché io variando diciamo l'intervallo della parametrizzazione lo posso spostare con il branco quindi è chiaro che là non c'è né massimo né di minimo allora vado a prendere questa funzione diciamo questa parametrizzazione la mia funzione che cosa è diventa la vado a scrivere come f di y di x di t coseno di t ma x di t è 2 coseno di t che è moltiplicato per 2 fa 4 coseno di t più y che fa 2 coseno di t e questa la chiamo g di t quindi per identificare i punti di massimo e di minimo di g stavolta devo fare i punti stazionali della g per fare i punti stazionali della g derivo qui abbiamo c' di t che fa meno 4 coseno di t più 2 coseno di t uguale a 0 e allora troviamo che praticamente abbiamo tangente di t uguale a mezzo possiamo dividere per il coseno perché se il coseno fosse 0 il seno non è 0 quindi questa equazione non è segnata quindi tangente di t uguale a mezzo che vuol dire possiamo qua ricavare l'alto tangente di un mezzo e qua dobbiamo fare il coseno dell'alto tangente di un mezzo e il seno dell'alto tangente di un mezzo in realtà tangente di t uguale a un mezzo vuol dire x uguale a mezzo e quindi andando a imporre questa condizione quindi y uguale a un mezzo x quindi troviamo x quadro più un quarto di x quadro uguale a 4 quindi troviamo 5 sedicesimi di x quadro uguale a 1 e come vedete x quadro uguale a 16 quinti le due soluzioni col più o col meno vi danno le due x dei punti vabbè qua il disegno non sta fatto bene chiaramente chiaramente punti che erano si simmetrici no ok come mi danno le due x dei punti che abbiamo trovato qui e poi sostituendo troviamo e quindi abbiamo ottenuto lo stesso risultato di prima semplicemente siamo andati leggermente più veloci e diciamo il punto è stato facilitato dal fatto di trovare un'opportuna parametizzazione della frontiera ok qualcuno potrebbe storciare il muso o il naso e dire che si però questo prevede che il più tempo conosci una parametizzazione della frontiera in questo caso era facile perché era una circonferenza se no la devi trovare la parametizzazione quindi in certità se ti devi impegnare attivamente per trovare non è che la parametizzazione venga così devi cercare di capire tu in genere la frontierai l'equazione e poi trovare una parametizzazione potrebbe richiedere del lavoro allora c'è un altro metodo ancora che è il cosiddetto metodo dei moltiplicatori di vagrancio in questo caso il moltiplicatore di vagrancio sarà uno solo che io riporto poi dimostreremo anche nel caso generale ma ma per gli esercizi sconsiglio nella maniera più di base perché teoricamente serve e anzi serve pure che fa capire certe cose quindi lo vedremo anche nel dettaglio perché serve ma dal punto di vista degli esercizi certe volte un esercizio che era in questo caso vedremo i conti resteranno abbastanza semplici ma soprattutto se non ve lo cavate con un po' di algebra nel caso tridimensionale soprattutto nel caso tridimensionale ancora ancora si può usare ma il caso tridimensionale potrebbe essere diciamo negativo dal punto di vista della possibilità di rinuncare le esercizioni allora il moltiplicatore lagrangio si basa in questo discorso noi prendiamo una funzione che chiamiamo lagrangiana per qualche motivo si chiama L o A ma comunque si chiama lagrangiana che è una funzione non dirlo ma di tre varianti x y e lagrangian per quale è questa funzione questa funzione è la funzione di partenza y più 2x più lambda volte per la funzione il guaiato a 0 di la equazione del vincolo quindi x4 più x4 meno 4 uguale a 0 cioè meno 4 uguale a 0 che è una funzione ora però questa funzione allora il discorso è che studiare i massimi e minimi liberi di questa funzione cioè diciamo i punti stazionali di questa funzione equivale a studiare i punti stazionali della mia funzione di partenza sulla frontiera sul vincolo chiamiamolo vincolo quindi il discorso della parte interna qua non c'è più la parte interna non c'è più qua siamo direttamente sul vincolo d'altro canto anche prima l'avamo dovuto fare il discorso per eliminare la parte interna prima abbiamo verificato il gradiente non siamo l'asse della parte interna del t perché del t su questi per un vincolo allora andiamo a fare il gradiente di h andiamo a fare la df in dx quanto fa df in dx fa 2 più 2 lambda di x andiamo a fare dh in dx andiamo a fare dh in dy che fa 1 più 2 lambda di x e poi andiamo a fare dh in dland che è uguale a x quadro y meno 4 e lo vogliamo a 0 tutte le 3 questa funzione come funzione di 3 variabili noi la studiamo libera cioè su tutto l'area e andiamo allora per trovare i massimi e i minimi di questa funzione dobbiamo andare a identificare i punti stazionali liberi allora andando a identificare i punti stazionali noi abbiamo questo sistema allora se ci fate caso automaticamente l'ultima equazione quella della derivata rispetto all'anda mi dà l'equazione del vincolo cioè mi dice che sto di nuovo sulla frontiera e infatti avevamo detto che stavamo questa mi dice che stiamo sul delta e poi abbiamo queste altre due equazioni da studiare e studiare risolviamo allora siccome abbiamo queste due equazioni sono messe al sistema ma io ho che allora se lambda e lambda deve essere forse diverso da 0 perché se lambda è uguale a 0 abbiamo 2 uguali a 0 per così quindi io posso trovare che x è uguale a meno 1 su lambda ma io da sotto trovo anche x è uguale a meno 1 su 2 lambda e quindi mettendo insieme queste due informazioni vediamo che y è uguale a 2x sostituisco nell'ultima equazione e mi ricavo gli stessi punti di prima se vi ricordate x quindi da qui da qui ricavo no y 4x quindi y 4x 4x viene 5 x 4 4x y uguale a 1 mezzo x e x è uguale a 2x e quindi ricavo gli stessi punti di p ok va bene allora qua ci sono delle cose da osservare prima cosa da osservare in realtà vabbè qua un'altra ricata a x sostituisci ricavi x e ricavi pure lambda qual è il significato di lambda lambda siamo più a vedere allora in genere in generi non abbiamo un gran significato però in economia lambda si chiama prezzo ombra quindi ha un significato per il perché in una certa situazione rappresenta un prezzo poi però l'altra osservazione più fondamentale è che noi prima abbiamo dovuto sì trovare la parametrizzazione della frontiera però quando andavamo a studiare la condizione di stazionalità la condizione di stazionalità era data con una funzione di una variabile quindi la condizione di stazionalità di una funzione di una variabile è un'equazione in un incognito cioè una volta che eravamo passati alla g di t g prima di t uguale a 0 era un'equazione in un incognito in realtà in realtà questo è un sistema di tre equazioni in tre equazioni in sezione quindi per carità questo sistema è particolarmente semplice quindi si arriva alla diciamo ha lo stesso risultato di prima un po' però in generale non possiamo dire se in generale la situazione sarà simile cioè vedremo che il metodo di conto piccato di Lagrangia aggiungerà tante variabili quante saranno i vingoli messi al sistema e quindi aumenta sia il numero dell'equazione che il numero dell'incognito tendenzialmente questo per gli esercizisti non è una cosa buona perché se vi trovate state su un'intersezione di due vincoli quindi state su un qualcosa di unidimensionale in R3 quindi avete due vincoli vedremo poi che questo è più guarda dire che state su per esempio state sulla state su una circonferenza in R3 una circonferenza la potete vedere come intersezione di un g e di un bianco sono due vincoli messi al sistema allora quando andremo a fare questo in R3 vedremo che avremo un sistema di 5 equazioni di 5 per eliminare il punto di stazionale di una funzione quando questa con la panorizzazione diventa un'equazione in un bianco questo poi lo vedremo meglio nel caso soprattutto di un'inzionale terzo terzo osservazione ma perché sarà questa cosa funziona perché se andate a vedere l'ultima equazione è f grande uguale a 0 che è il nostro vincolo tutte le altre equazioni sono gradiente di f piccolo più lambda gradiente di f grande uguale a 0 cioè se voi andate a vedere 2x 2y è il gradiente di f grande cioè lambda davanti 2x1 è gradiente di f piccolo tutte le altre equazioni si possono mettere insieme in questo sistema qua ma allora nel momento che in un punto p è verificata questa equazione io porto dall'altra parte a trovare sì poi c'è il meno ma non valide gradiente di f piccolo è proporzionale esattamente come abbiamo detto prima che è la condizione necessaria per la sanzionata a gradiente f grande che è la condizione necessaria per la sanzionata poi per vedere invece se quella è la massima quindi il caso di due dimensionale è stato completamente esaurito sia come teoria sia come pratica adesso dobbiamo andare a vedere senza allargarci dopo poi qualcosa scrivemo diciamo il metodo moltiplicatorio scriveremo nel caso generale in Rm ma comunque dal punto di vista degli esercizi già fare in caso tridimensionale vi assicuro che dipende dall'esercizio ci sono esercizi facili ma possono essere anche nel caso bidimensionale esercizi espliciti e soprattutto nel caso di menzionale esercizi facili non è difficile di menzionale di menzionale di menzionale di menzionale di menzionale